Buonasera a tutte e tutti grazie per essere qui a seguire questo webinar io sono Emanuela Maritan e lavoro nella redazione Zanichelli sui volumi Unitutor qui con me ho gli autori di Unitutor Fatima Longo ciao Fatima e Alessandro Iannucci ciao Alessandro ciao Manuela buon pomeriggio a tutti i colleghi grazie per il tempo che ci dedicate grazie a voi insieme alcuni esempi di strategie e idee che gli autori propongono nel manuale per risolvere quiz in modo efficace e in poco tempo le nuove risorse digitali di Unitutor per chi insegna e le risorse e le strategie per le prove in inglese Prima di passare la parola ad Alessandro vi invito a usare la chat per farci le domande che vi sorgono nel corso del webinar e alla fine dei nostri interventi cercheremo di raggrupparle per temi e di rispondere a quanto più possibile Vai Alessandro per il primo focus del nostro webinar Benissimo grazie Emanuela io ringrazio ancora tutti i colleghi che stanno partecipando a questo seminario Allora oggi vi presentiamo un po' vorrei fare una chiacchierata fra colleghi e vorrei presentarvi le idee e strategie che sono un po' le novità che abbiamo inserito negli ultimi nelle ultime due versioni del manuale e le idee e le strategie che servono per aiutare lo studente per sviluppare un metodo standard quindi io questo lo noto dalla mia esperienza lo noto che serve moltissimo per il ragazzo poter riapplicare qualcosa che ha già studiato risolvendo un quiz per i test d'ammissione all'università ma anche per sviluppare pensiero critico e diverse strategie risolutive anche su questo vorrei sottolineare l'importanza di proporre dei quiz e accettare ogni tipo di risposta da parte dei ragazzi e vorrei partire prima di presentarvi un paio di esempi con un sondaggio proprio perché è molto interessante da parte mia sapere pure cosa pensano gli altri colleghi in base alla loro esperienza appunto in base alla vostra esperienza avete notato alcune differenze tra i risultati dei vostri studenti nelle prove tradizionali e nei test a risposta chiusa? allora potete dare tre tipi di risposte poi darò la mia risposta ovviamente non mi voglio condizionare perché ovviamente è la mia esperienza uno non ho notato differenze significative due ho notato alcune differenze e tre ho notato molte differenze quindi il sondaggio è aperto voi potete rispondere assolutamente in modo pienamente libero mi interesserà molto vedere quali sono le vostre risposte solo dopo dirò quello che ho notato io dalla mia esperienza nei corsi a scuola e nei corsi all'università quindi i vostri studenti anche quelli bravi che vanno molto bene nelle prove tradizionali poi vanno altrettanto bene nei test e vale anche il contrario cioè lo studente che non va bene nelle prove benissimo allora leggo le risposte devo dire sono molto interessanti e mi ci ritrovo molto nel senso che ha vinto il 66% ho notato alcune differenze poi ho notato molte differenze il 25% non ho notato differenze significative il 9% ecco io avrei votato ho notato alcune differenze e vi dico un po' anche perché prima di passare al primo esempio io sapete dove ho trovato le grandi differenze non tanto nello studente dirigente bravo che studia che è molto preparato e che prende 8, 9 e 10 nelle prove tradizionali quel ragazzo riesce a fare dei test e ottenere risultati molto molto buoni anche nei test di accesso all'università ho trovato la differenza nel classico studente e tutti noi forse li conosciamo quegli studenti che non vanno così bene nelle prove tradizionali e che invece hanno quel guizzo quella strategia brillante per andare bene nei test di risposta chiusa e adesso volevo presentarvi proprio un esempio chiedo scusa a tutti i colleghi che non sono di matematica cercherò di spiegarlo nel modo più semplice possibile un esempio che noi abbiamo inserito quest'anno nel manuale proprio come novità in tutti i manuali che abbiamo scritto eccolo qua che riguarda un argomento di matematica no, le funzioni coniometriche questa è un esempio di domanda che può capitare in un test turc vedete che è molto, può spaventare tanto cioè io amo la matematica però oggettivamente se presentassimo questa domanda come vedete vuol dire meno 23 alla 4 cosin 4 di meno 2x più 4 cosin 4 di meno 2x uguale le persone che non amo la matematica tendono a lasciar perdere questa domanda ecco e io vi domando, mi domando come risolverebbe andando avanti anche con l'animazione un nostro studente anche bravo a questo quesito e questa è una domanda che io ho voluto proporre perché quando presento quesiti di questo tipo alcuni miei studenti, soprattutto quelli molto bravi quelli che conoscono benissimo tutte le leggi della trigonometria quindi conoscono gli archi associati le formule di duplicazione iniziano a fare calcoli su calcoli su quell'esponente per arrivare a un qualcosa per cui si poteva arrivare immediatamente alla risposta e leviamo con l'animazione vi faccio vedere qual è l'idea che noi proponiamo applica la prima relazione fondamentale della goniometria non deve applicare tante altre leggi basta ricordarsi che qua che se in quadro di un qualcosa più cosa in quadro di un qualcosa è uguale a uno e allora lì arriviamo a una seconda strategia che vorrei un po' farvi notare quindi andando avanti sempre con l'animazione e qui il problema è meno ventitré capiamo che se in quadro di un angolo più cosa in quadro di un angolo è uguale a uno andiamo andiamo pure avanti Emanuella così facciamo vedere eccolo qui e quindi dato che porto un quattro in evidenza il tutto si può ricondurre a meno ventitré alla quarta e arriva il secondo problema ok meno ventitré alla quarta si fa io sono convinto che il ottanta e il novanta per cento dei nostri ragazzi riuscirebbe tranquillamente a fare meno ventitré alla quarta però se lo facciamo carta e penna meno ventitré alla quarta porta via del tempo perché devo fare ventitré per ventitré e vabbè questo si fa velocemente poi ancora per ventitré e poi ancora per ventitré allora piuttosto che fare meno ventitré alla quarta e perdere un minuto un minuto e mezzo c'è un'altra strategia un altro esempio e un altro diciamo trucchetto matematico che noi abbiamo inserito in questi in questi dei che abbiamo messo nella prima parte del manuale cioè per vedere quanto fa meno ventitré alla quarta è sufficiente anzi mi correggo per vedere quale delle cinque risposte è quella giusta è sufficiente notare che meno ventitré alla quarta dà come risultato un numero che finisce per uno perché meno ventitré alla quarta dà come risultato un numero che finisce con l'ultima cifra della quarta potenza del tre cioè dell'ultima cifra del numero che è messo come base ma questo non vale solo per ventitré vale per tutti i numeri nel senso che se volessi sapere quanto fa due milioni ottocento due alla quarta dato che quel numero finisce per due e lo devo elevare alla quarta e dato che due alla quarta fa sedici quella potenza che ho appena detto finisce per sei e questo è un modo per arrivare alla risposta e come vedete noi l'abbiamo scritto in blu per far capire non è il procedimento rigoroso tu non sai qual è il risultato giusto però fra le risposte proposte solo una finisce per uno quindi tu escludi tutte le altre e dai come risposta esatta all'unica che finisce per uno è ovvio che non sempre si può usare un metodo di questo tipo però è molto utile secondo me mostrare ragazzi queste idee per arrivare alla risposta nel minor tempo possibile perché cari colleghi vi assicuro che per un test d'ingresso lo sapete meglio di me il tempo per loro vuol dire punteggio in più perché a recuperare un minuto vuol dire poter leggere con serenità una domanda che altrimenti potrei non leggere allora dopo questo esempio ve ne proponerò solo un altro prima di lasciare la parola a dottoressa Maritane volevo un attimo ragionare insieme a voi nella slide successiva e diciamo quello che io dico ai miei studenti come affrontare un quesito? allora secondo me io cerco di trasmettere queste tre cose un devo un non devo e un posso allora devo leggere tutte le e cinque le risposte quelle lo devo fare le risposte in un test d'ammissione universitario fanno parte della domanda le devo leggere non devo per forza arrivare alla risposta completa pensate all'esempio precedente io non ho fatto meno 23 alla quarta ho solo capito che meno 23 alla quarta finisce per uno e quindi posso eliminare i distrattori elimino tutti quelli che non finiscono per uno mi faccio una domanda se io facessi parte del vostro pubblico del pubblico mi domanderei caro collega ma è sempre vero che c'è solo una risposta che finisce per uno? allora non lo posso sapere vi dico che in base alla mia esperienza è molto probabile perché secondo me queste forme di ragionamento vengono molto premiate da chi prepara quiz di questo tipo poi se non fosse solo una la risposta che finisce per uno ce ne fossero due e vabbè però ho eliminato tre distrattori su cinque quindi bisogna lavorare molto sull'eliminare i distrattori allora a questo punto vorrei proporre altri due sondaggi sempre per chiacchierare fra colleghi il primo è il seguente che lo vedremo adesso nella slide successiva e la domanda è la seguente questi due sondaggi mi interessano tantissimo i vostri studenti quando immaginate di avere un testo molto lungo un testo che ha un sacco di spiegazioni e alla fine la domanda e poi le cinque possibili risposte ecco i vostri studenti risolvono i quesiti leggendo prima la domanda e dopo il testo cioè sono abituati a leggere prima la domanda quella che finisce con il punto interrogativo e dopo leggere il testo che precede la domanda sempre qualche volta o mai anche qui vi dirò la mia in base alla mia esperienza dopo le vostre risposte che saranno ovviamente preziose perché come ripeto siamo qui fra colleghi e è interessante scambiarci un po' di esperienze allora vediamo la percentuale perfetto qualche volta allora posso farvi complimenti? ecco io do la mia risposta mai mai cioè li devo abituare quindi probabilmente tutti coloro che hanno risposto qualche volta che è il 69% poi sempre il 17% davvero cari colleghi complimenti perché si vede li avete abituati molto bene e solo il 13% mai ecco bravi state andando nella direzione giusta i miei studenti all'inizio non lo fanno mai si leggono il testo dalla prima parola in poi e quando leggono la domanda dicono ah e adesso devo rileggermi il testo per capire bene quel come ragionare solo dopo che l'ho un po' abituati iniziano veramente a leggerlo qualche volta prima a leggere prima la domanda e poi come avete detto voi quel 17% il sempre sì e sarebbe il massimo e adesso vedremo con l'ultimo esempio che vi propongo quello che voglio dire e ho però un altro quesito quando i vostri studenti risolvono i quesiti disegnano uno schema fanno una bozza un disegno uno schematto non fantastico è però su foglio e carta e penna usano qualche disegnino sempre qualche volta o mai anche questa mi interessa tantissimo anche qui vi darò la mia risposta la risposta quando inizio a fare un corso con gli studenti per i test da missione all'università e quando ho finito di fare il corso vediamo un po' allora benissimo e qui mi ci ritrovo alla grande perché il 69% risponde qualche volta il 22% risponde mai e solo il 9% risponde sempre e io continuo a farvi complimenti perché secondo me questa è la strada giusta ecco all'inizio i miei studenti leggono il testo e sono convinti di arrivare alla risposta così con il loro cervello senza neanche fare un disegnino o prendere qualche appunto e solo dopo quando io sollecito faccio notare che basta fare qualche disegnino o qualche bozza per avere delle informazioni importantissime riescono a capire che iniziare a fare un disegno anche mentre leggo il testo è già un'informazione molto preziosa e allora l'ultimo esempio che vi volevo mostrare sulle strategie che appunto qui ho intitolato un disegno ti può aiutare vorrei mettere in atto le due strategie di cui abbiamo discusso adesso nel sondaggio quindi come vedete è un esempio detto fra di noi cari professori io trovo questo esempio di difficoltà medio alta non è non è un quesito banale anzi se vi va se vi va di divertirvi proponetelo domani ai vostri allievi e alunni e vediamo un po' le risposte che potete sentire allora usiamo i trucchetti diciamo che abbiamo utilizzato prima cioè leggiamo prima la domanda cioè quante squadre prendono parte alla prima fase del torneo questa è l'informazione che devo andare a trovare quindi una volta che so cosa devo trovare leggo il testo sapendo che devo rispondere a questa domanda è tutto un pochino più semplice e vi consiglio di suggerire ai vostri studenti di iniziare a fare dei disegnini proprio mentre leggono la domanda notate quante informazioni significative ci sono in questo quesito un torneo di calcio si svolge in due fasi e quindi noi abbiamo qui con un'animazione vedete sottolineato tutte le cose più importanti nella prima fase le squadre sono divise in otto gruppi di ugual numero e quindi già possiamo fare otto cerchietti che ogni cerchietto rappresenta un gruppo ciascuna squadra gioca una sola volta contro ogni squadra del proprio gruppo quindi nella prima fase ogni squadra gioca una sola volta contro le altre del proprio gruppo le prime due classificate di ciascun gruppo si qualificano per la seconda fase a eliminazione diretta in partita unica quindi già adesso visto che i gruppi sono otto e le prime due classificate di ogni gruppo si qualificano vuol dire che posso disegnare sedici palline che sono le sedici squadre che si sono qualificate due per ogni gruppo e quelle si scontrano per una partita a eliminazione diretta al termine del torneo una squadra che ha perso una delle semifinali ha disputato sette partite e ora rileggo la domanda quante squadre prendono parte della prima fase del torneo allora cari colleghi io già l'ho presentata varie volte ai miei studenti lo so quanto mette in crisi questa domanda certe volte si vedono degli occhi di ragazzi che dicono come faccio o altri che mi domandano ma qual è la formula ma non c'è una formula devi riuscire a risolvere il problema non c'è una formula che ti risolve tu allora il consiglio è iniziate a fare uno schemino lo vediamo nella slide successiva guardate questo è quello che abbiamo messo nel manuale guardate quanto è più semplice la parte di destra cioè il disegno rispetto alla parte di sinistra allora cerco di spiegarla insieme insieme al disegno nella grafica vedete che ho disegnato io le ho le scusate sedici palline che sono le sedici squadre che si sono qualificate dopo aver giocato nei gironi due per ogni girone e queste poi si affrontano in uno scontro diretto la pallina rossa è la squadra che perde la semifinale una delle squadre che perde la semifinale vedete che se le squadre erano sedici prima fanno i sedicesimi poi fanno gli ottavi ovviamente è uno scontro diretto una vince e una perde quindi qui la pallina rossa ha vinto ai sedicesimi fa gli ottavi vince pure gli ottavi fa la semifinale e perde e poi c'è la finale dove vedete non c'è più la pallina rossa allora la squadra rossa che ha perso la semifinale ha giocato dopo i gironi tre partite lo vedo proprio dal grafico ha giocato tre partite il testo mi diceva che ne aveva disputate sette e quindi vuol dire che nel girone ha giocato sette meno tre fa quattro quattro partite beh se una squadra gioca quattro partite quindi ha giocato contro i suoi quattro avversari vuol dire che nel girone c'erano cinque squadre perché la squadra ovviamente non gioca con se stessa ha giocato contro i quattro avversari quindi in ogni gironi ci sono cinque squadre i gironi sono otto cinque per otto quarante ripeto secondo me è un quesito molto difficile però è un quesito che senza disegno a mio avviso è veramente ancora 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 più difficile davvero davvero ok allora io adesso finisco veramente con l'ultima slide prima di dare la parola alla dottoressa Maritanna che un po' vuole essere una chiacchierata fra di noi cioè se noi fossimo adesso ci trovassimo in un grande dipartimento tutti insieme a discutere di questo argomento io direi darei questi suggerimenti e poi vi chiedo anche magari di metterli in chat perché per noi sono veramente preziosi i suggerimenti dei colleghi allora io vi consiglio di proporre quiz nuovi e chiedere ai ragazzi di catalogare tutte le nuove idee proposte perché spesso gli studenti ci danno consigli preziosi veramente vi assicuro che chi usa i nostri manuali vedrà che nella parte di matematica fisica logica spesso ho segnato prima strategia seconda strategia alcune volte anche terza strategia e le terze strategie spesso vengono fuori dai suggerimenti dei miei studenti perché sono veramente un momento di consiglio super prezioso usarle poi queste nuove idee e presentare valorizzare tutte le possibili strategie che hanno portato alla soluzione esatta perché non sempre la mia strategia la strategia del professore è quella più veloce ed efficace quindi se lo studente trova quella più veloce lo devi far notare devi tu imparare dallo studente e lo devi riproporre a tutti gli altri studenti allora io per adesso vi ringrazio lascio la parola alla dottoressa Maritanna che vi presenterà alcune novità che riguardano il sito Unitutor benissimo grazie mille Alessandro allora la prima novità digitale che vi presento è il nuovo sito Unitutor come vedete gli abbiamo dato una nuova veste grafica e questa è la home page generale che raccoglie tutti i libri Unitutor in alto a destra vi lascio il link diretto per raggiungerlo che troverete poi nella presentazione che vi arriverà alla fine del webinar cliccando sui pulsanti delle copertine atterrate alla pagina del libro specifico vediamo per esempio il sito di medicina ecco questa è la pagina home del sito di medicina nella parte centrale trovate un carosello con il quale potete scorrere tutte le novità e le risorse del libro le risorse vere e proprie sono poi nel tab i tuoi contenuti e andiamo a vederle nella parte alta vedete tutte le risorse dedicate agli studenti a cui anche voi avete accesso mi soffermo però sulle risorse dedicate a voi insegnanti che sono una grande novità di quest'anno la prima risorsa consiste negli esempi interattivi insieme ad alcune vostre colleghe e colleghi che preparano gli studenti ai test di ammissione infatti abbiamo pensato che potesse essere utile per voi avere degli esercizi da proiettare in classe e da usare con gli studenti per risolverli insieme andiamo nella pagina li trovate tutti raggruppati per materia e ordinati in base alla lezione del libro anche qui vi lascio il link per raggiungere direttamente la pagina vediamo un esempio di chimica nell'intestazione grigia e blu è riportata alla lezione di riferimento e a seguire si legge il testo del quesito potete invitare gli studenti a rispondere e cliccando sulle varie risposte potete vedere insieme a loro se sono sbagliate ecco qua in alcuni casi sono fornite anche delle strategie per escludere le risposte con un ragionamento per esempio qui si invita a osservare che le risposte A e B sono equivalenti per cui possono essere escluse entrambe anche nel caso delle risposte corrette trovate la spiegazione e le strategie e potete commentarle insieme agli studenti per esempio vedete che anche le risposte C ed E si escludono a vicenda quindi potete arrivare alla risposta anche solo con il ragionamento e invitare gli studenti ad arrivare alla risposta anche solo con il ragionamento logico la seconda risorsa per voi insegnanti che abbiamo introdotto quest'anno sono le prove d'ingresso e simulazioni sulla Z esercizi la Z esercizi è il nuovo ambiente per la gestione degli esercizi digitali probabilmente qualcuno di voi lo conosce già ma vediamo insieme quali sono le funzioni principali cliccando sul tab prove vedete le prove che abbiamo predisposto riservate a voi insegnanti le abbiamo divise per materia e per il momento abbiamo inserito una simulazione ma ne aggiungeremo altre nel corso dell'anno vediamo per esempio la prova d'ingresso di matematica se funziona nella parte centrale della pagina trovate le miniature degli esercizi che compongono la prova e nei tab in blu avete le azioni che potete compiere come prima azione potete vedere un'antiprima della prova per esaminare nel dettaglio gli esercizi che la compongono oppure potete esportare la prova scusate ecco se cliccate su esporta potete generare fino a quattro varianti diverse della stessa prova eventualmente anche ad alta leggibilità e scaricare il file word o pdf potete poi condividere la prova e copiare semplicemente il link condividere su teams oppure condividere su classroom altrimenti potete assegnare la prova con un'assegnazione veloce o con la classe virtuale i zanichelli qui vediamo le tre opzioni offerte dall'assegnazione veloce con un link con un codice alfanumerico oppure con il QR code in alto a destra vi lascio i link ai video tutorial che spiegano il funzionamento di la z esercizi e il link alle fac in modo che possiate approfondire autonomamente come funziona il nuovo sistema la terza risorsa per voi insegnanti è collezioni unitutor collezioni è la nostra piattaforma per fare lezioni con i video e molto probabilmente è uno strumento che conoscete già da tempo ma la novità è che abbiamo inserito tra le materie la voce test di ammissione eccola qua e al suo interno trovate tutti i video unitutor raggruppati per materia per biologia abbiamo anche una sezione di video in inglese utile per chi si prepara ai test in inglese appunto come l'IMAT torniamo alla pagina del sito i tuoi contenuti per vedere rapidamente le risorse per gli studenti a parte le informazioni sul test e i video consigli le altre risorse le trovate suddivise per materia qui a destra ve ne lascio alcuni esempi ma lascio appunto a voi una esplorazione più approfondita vediamo invece i quiz interattivi ZTE per evidenziare le novità che abbiamo introdotto nel simulatore cliccando sul tab quiz interattivi arrivate a una pagina di passaggio che vi manda al libro ZTE collegato all'interno del quale trovate appunto il simulatore che cos'è il simulatore è uno strumento che permette di creare un numero illimitato di simulazioni come quelle del test fatte come quelle del test per proprio lo abbiamo introdotto l'anno scorso e lo abbiamo predisposto per tutti gli unitutor medicina ingegneria professioni sanitarie e lo stiamo costruendo anche per il nuovo libro di logica che è in uscita lo trovate all'interno di ciascun libro ZTE nel riquadro crea le tue simulazioni questo qua evidenziato qui vediamo per esempio quello di medicina che offre la possibilità di creare una simulazione standard di medicina oppure di veterinaria che come sapete hanno una composizione leggermente diversa se clicco su medicina avvio la simulazione e questa è la grande novità di quest'anno sapete che i talk sono suddivisi in sezioni ciascuna con un tempo determinato ecco anche il simulatore delle prove talk funziona proprio così gli studenti possono vedere solo i quiz presenti nella sezione e hanno a disposizione il tempo assegnato per quella sezione quando decidono che hanno terminato di rispondere ai quiz cliccano su termina sezione e compare loro un avviso che chiede conferma che vogliono effettivamente terminare la sezione e ricorda che non potranno più usufruire del tempo non sfruttato altrimenti se esauriscono il tempo a disposizione compare una finestra che li porta direttamente a passare alla sezione successiva al termine della simulazione visualizzano la correzione e vedono il punteggio che hanno totalizzato calcolato secondo i criteri del talk quante sono le risposte corrette sbagliate e non date il tempo usato per ogni sezione e il punteggio parziale in modo che possano capire su quali materie concentrare il loro studio infine possono rivedere tutti gli esercizi un'altra possibilità che offre il simulatore è di creare una simulazione personalizzata eccola qua per esempio se hanno ripassato solo chimica e fisica ma non le altre materie possono creare una simulazione con il numero di quiz che desiderano per queste materie e portare a zero i quiz delle altre materie assegnano il tempo che ritengono adeguato e avviano la simulazione anche per il simulatore vi lascio il link se riesco a farlo comparire al video di presentazione che descrive il funzionamento un'altra novità introdotta quest'anno sono le simulazioni in inglese per ingegneria e professioni sanitarie abbiamo abbiamo creato delle simulazioni ad hoc all'interno dei rispettivi libri che trovate in fondo agli allenamenti per materia e sono quelle che ho evidenziato in rosso invece per medicina abbiamo creato proprio un libro a sé che trovate con la ricerca di ZTE questo perché la logica del punteggio dell'IMAT è diversa da quella della prova in italiano e quindi abbiamo dovuto creare proprio un libro diverso ecco qui vi lascio il link per andare direttamente al libro di medicina sull'IMAT bene direi che ha finito tutta la panoramica passo ora la parola a Fatima Longo che ci illustrerà alcune strategie per affrontare i quiz in inglese buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti visto che Manuela ha parlato di inglese io ho voluto dedicare proprio qualche slide sui quiz in inglese per diversi motivi quando i nostri studenti studiano diciamo per i talk che sapete che sono in italiano e devono essere fatti presso un Ateneo quindi non da casa cioè il talk med il talk vet devono essere fatti in Ateneo invece il talk B e F questi possono essere svolti online da casa e sono in lingua italiana alcuni come vedrete esistono anche altri talk tipo ingegneria alcuni in inglese quindi l'inglese sta diciamo prendendo sempre più piede sia per le università tipo l'IMAT che è collegato diciamo con Cambridge sia per i corsi di laurea che ormai esistono in inglese di ingegneria di farmacia e di diversi di diverse discipline e questo perché secondo me è importante perché non è tanto la prova del quiz in inglese ma è la strategia di competenze su cui gli inglesi diciamo in questo forse sono maestri e vi ho messo tre quiz diversi di biologia e di chimica e non tanto adesso discuteremo il quiz ma non tanto per il quiz se stesso ma per darvi un suggerimento e dobbiamo andare sempre di più e ve lo dico perché lavorando all'università è una cosa che vedono gli studenti sono tendono a trovare la loro sicurezza nel manuale nel testo nel powerpoint nell'accumulo di powerpoint ogni volta che facciamo anche i corsi in sapienza la prima cosa ci dà tutti i powerpoint abbiamo i powerpoint ma non si soffermano a osservare invece spesso e volentieri questo sia il CISIA quindi Tolkien italiano sia l'IMAT che quest'anno non è stato per la prima volta fatto da Cambridge ma è stato fatto proprio dal ministero e si va alla ricerca di meno conoscenze più competenze che vuol dire è chiaro che le competenze si basano sulle conoscenze e senza le une non ci sono le altre però se noi facciamo un esempio di questo quiz che è la tecnologia del DNA ricombinante tutti i colleghi sicuramente di biologia mi comprendono ma anche coloro che non sanno il DNA ricombinante noi già da questa immagine osservando l'immagine possiamo sicuramente andare per esclusione e cominciare a rispondere quindi se noi vediamo che cosa vediamo vediamo che c'è un gene che dà una tossina poi c'è un gene per la resistenza all'antibiotico che si trovano in questo plasmide il plasmide viene inserito in questo batterio che è Agrobacterium Tumefacens il quale poi nelle piante di cotone svilupperà questi piccoli tumori e diciamo produrrà questa tossina ucciderà gli insetti che diciamo cercano di mangiare la pianta in questo modo difende la pianta da eventuali parassiti ora la domanda ci chiede nella modalità Cambridge solo la 1 solo la 2 e così via ci chiede di scegliere e ci chiede chiaramente nel numero 1 l'Agrobacterium ha due funzioni quali sono stimola la divisione cellulare in queste piante e funziona diciamo da vettore come il plasmide allora poi ce ne sono due dice la fonte del gene per la tossina oppure del gene per la resistenza all'antibiotico ecco possiamo subito eliminare la 3 e la 4 perché Agrobacterium tra l'altro qui chi ha fatto il latino chi fa il classico anche lo scientifico può anche andarci per le etimologie della parola facen tum e facen fare tumori tumor in latino vuol dire rigonfiamento ed ecco infatti nel disegno che si sviluppano queste piccole palline questi rigonfiamenti quindi sia osservando sia giocando sull'etimologia delle parole sia vedendo proprio il percorso loro possono rispondere anche senza conoscere nei minimi termini la tecnologia del DNA ricombinante c'è che cos'è un enzima di restrizione che cos'è un elettroforesi ora questi equesiti possono essere uno spunto molto importante per le nostre lezioni per i nostri compiti in classe e anche proprio per chi non fa il test diciamo e può un'immagine del genere essere sottoposta anche senza sotto forma di quiz cioè uno può in un compito mettere un'immagine e poi chiedere di osservare chiedere di spiegare e di dare diciamo delle delle spiegare quello che è il percorso della tecnologia del DNA ricombinante quindi questa secondo me è una strategia che dobbiamo utilizzare il più possibile per i nostri studenti lo stesso unitutor quando diciamo già dalla prima edizione venne ideato volle rispetto ad altri testi che apparivano diciamo tutti scritti volle dare un'immagine ecco perché è a colori ecco perché è pieno di immagini e se voi lo vedete lo studio è sull'immagine quello che è il visual learning l'apprendimento visivo e oggi si parla molto sia di apprendimento visivo che è uditivo quindi da un lato i podcast e dall'altro appunto video video tutorial e così via è importante che abituiamo il più possibile gli studenti a questo perché se no anche all'università si crea di avere a volte studenti che ripetono alla perfezione il manuale però se poi gli chiedi di fare una diagnosi non sono in grado di ragionare e questo guardate sono dati che sono usciti anche nelle scuole di specializzazione voi sapete che lavoro in sapienza in ambito medico sono usciti che rispondevano tutti alla domandina di base di materia medica che cos'è il DNA poi quando si andava mandavano delle foto tipo radiografie quindi cose mediche che dovevano interpretare sbagliavano quindi questo è un dato anche a livello nazionale i nostri studenti sono a volte poveri di capacità osservative in questo senso e possiamo vedere anche la seconda strategia del secondo quesito questa è chimica adesso come già specificato nel testo queste lettere che vedete non sono simboli chimici anche qui senza cioè sapendo anche arrivando qual è l'energia di ionizzazione di prima ionizzazione più alta allora è uno che sa che cosa vuol dire energia di ionizzazione che vuol dire l'energia per formare uno ione quindi per allontanare un elettrone allora la prima cosa che viene il ragazzo sicuramente potrebbe spaventarsi perché vede delle lettere che non corrispondono a simboli chimici quindi non ha un riferimento sulla tavola periodica vede dei numeri e non trova diciamo una corrispondenza allora intanto osservando che due già sono nove due sono undici e una sola è dieci quindi alcune essendo simili si escludono anche a vicenda perché la prima perché dieci è l'ottetto ottetto vuol dire massima stabilità un atomo che è dell'ottavo gruppo dei gas nobili è chiaro che tende a non cedere il proprio elettrone non vuole rompere l'ottetto la configurazione elettronica e quindi l'energia di ionizzazione sarà sicuramente più alta ora vedete che questo quesito che potrebbe spaventare lo studente invece se lo studente ragiona su quello che è l'energia di ionizzazione gli basta sapere pochi concetti poche conoscenze di base è chiaro ripeto che le conoscenze di base ci vogliono però lui deve ricordarsi bene cos'è un ottetto cos'è la stabilità energia di ionizzazione è un concetto è un potenziale è un potenziale si fa anche quando si parla di potenziale elettrico in fisica quindi anche uno studente che non ha studiato chimica in modo approfondito anche dalla fisica può arrivare che potenziale vuol dire allontanare una carica quindi è un'energia che serve per allontanare allora se io sono stabile se ho l'ottetto è chiaro che non ti cedo il mio elettrone con tanta facilità vediamo l'altro quesito qui ritorniamo alla biologia allora guardate questo tipo di quesito e devo dire che è uscito in tutte le salse ed è super comune noi parliamo ai nostri studenti di sintesi proteica duplicazione del DNA trascrizione traduzione però spesso loro non ti sanno poi neanche comprendere fino in fondo cos'è il genotipo cos'è il fenotipo cioè che il fenotipo è la stessa proteina non ti sanno comprendere cosa sta avvenendo cioè ti dicono codone riconosce anticodone io a volte chiedo ma che vuol dire riconosce non ti dicono dice beh sono complementari sì ma che vuol dire che sono complementari non ti dicono formano legami idrogeno c'è una complementarietà allora anche qui impostare un lavoro sul fargli scrivere ok hai parlato di duplicazione del DNA hai detto che la DNA polimerasi va in direzione 5' 3' e sintetizza bene fai una prova scrivi alla lavagna un pezzettino di sequenza nucleotidica fammi il complementare trovami il il filamento coding insomma quello senso che poi mi dà l'RNA messaggero che poi mi dà il fenotipo con codone anticodone per vedere poi l'ammino acido col codice genetico chiaramente avendo a disposizione quindi loro devono imparare a saper fare cioè passare dal sapere al saper fare il problema a volte dello scoraggiamento degli studenti di fronte ai tolke ma non solo perché il tolke è il primo passaggio nella scuola tanti anni fa è stato già introdotto l'invalsi che cerca di diciamo proprio di lavorare su queste competenze all'università il tolke è il primo momento tutti gli esami universitari oggi il primo screening poi c'è l'orale ma il primo screening è spesso o un multiple choice o comunque prove di competenze cioè dove il docente gli dà anche delle domande aperte ma gli dà pensate pure anatomia gli dà un'immagine istologia gli dà un vetrino e loro devono guardare devono osservare devono riconoscere quindi nell'ambito scientifico come poi in letteratura si fa con la poesia con l'analisi del testo con lo studio della struttura di un testo ecco devono applicare quel tipo di e voi sapete che l'esame di stato già l'analisi del testo è uno da dieci anni almeno sarà nelle prove degli esami di stato quindi l'approccio sul testo ecco dobbiamo fare l'approccio sul testo anche per quanto riguarda le discipline scientifiche e in questo modo lo studente intanto si ricorderà quell'argomento per sempre non se lo scorderà più perché l'ha veramente capito a fondo e poi non sarà spaventato e leggevo se mi posso permettere prima in chat leggevo una domanda che diceva un docente e diceva che gli studenti gli hanno riferito che il talk quest'anno è stato più difficile molto difficile e non è così perché a parte che le cose difficili poi sono state equalizzate sapete che il sistema nazionale il quesito che è uscito più difficile ha avuto un punteggio equalizzato perché se tutta Italia l'ha riconosciuto difficile allora è stato equalizzato se tutta Italia l'ha riconosciuto facile invece ha avuto un punteggio più basso quindi non è la prova difficile è che loro si spaventano loro spesso veramente si perdono in un bicchier d'acqua quindi perché facciamo diciamo questi tipi di webinar di strategie ci puntiamo molto sopra proprio per questo motivo i talk non sono disponibili i quesiti talk non ci sono quindi è inutile andare alla ricerca della tipologia talk che ci sia perché nessuno li ha vissi cioè li ha vissi solo lo studente che è andato lì a sedersi rispondo a un'altra domanda che ho letto in chat se mi permettete i dsa hanno il tempo aggiuntivo se non sbaglio 20 minuti e hanno l'uso della calcolatrice per il resto non hanno altro tavola periodica formulari no mappe concettuali no queste sono le uniche cose e chiaramente le devono dichiarare scrivendo all'ufficio dsa per tempo perché altrimenti non è che si possono presentare lì quel giorno e basta io penso che di avervi detto tutto rimando la parola Emanuela se ci sono 20 minuti in più e se ci sono altre domande sì sì grazie Fatima ok prima di passare ad analizzare le altre domande che avete scritto in chat vi dico che potete scriverci se avete poi altri dubbi e domande dopo il webinar all'indirizzo che vedete qua unitutor zanichelli punto it oppure potete tramite il secondo link che vedete nella pagina fissare un appuntamento su meet per parlare con noi della redazione potrete scegliere come vedete dall'immagine a destra uno dei giorni e degli orari disponibili e vi arriverà un link su meet per partecipare alla call con noi bene allora vediamo un po' le domande allora scusami Emanuella se ti interrompo ma io ringrazio un collega che ha fatto notare un errore di stampa che non cambia però il risultato di un quesito che è il quesito quello sul torneo probabilmente legato alla traduzione in inglese cioè finale semifinale quarti e ottavi e noi invece avevamo scritto finale semifinale ottavi e sedicesimi probabilmente è un errore di traduzione su in inglese gli ottavi si chiamano round of sixteen ma ovviamente non cambia come risultato però ringrazio il collega che il professore che l'ha fatto notare nella chat e volevo specificarlo grazie davvero esatto era proprio la prima domanda che ti volevo fare sì veniva mi sono appuntato alcune cose esatto esatto benissimo allora c'è una domanda che riguarda i quesiti scritti in modo ambiguo come comportarsi rispondo io o rispondo Alessandro no no vai Fatima poi casomai aggiungo qualcosa allora i quesiti ambigui diciamo intanto andare sempre per esclusione questo credo che Alessandro sia d'accordo con me e poi se proprio ambiguo io consiglio di lasciarlo perché purtroppo gli errori possono capitare capitano al ministero capitano al Cisia però a quel punto è meglio non rischiare diciamo e devono stare attenti però che cioè sia veramente ambiguo e che non siano loro che vanno fuori strada e questo secondo me è anche un'altra cosa ne è capitato uno a a prova insomma non è che ci sono tanti quesiti ambigui e posso rispondere anche a una domanda che vedo qui in chat o no sì sì vai vai allora stanno chiedendo ripetutamente le date e vi dico che a per fine novembre dovrebbero uscire date di talk di febbraio e aprile per ora non si sa nulla e questo e poi un'altra cosa che vi volevo dire importante per l'inglese è vero che le statistiche dicono che a volte gli studenti dello scientifico hanno dato punteggi più alti però io vi posso dire che con il giusto esercizio prendendolo anche per tempo tutti gli studenti classico linguistico sono veramente possono superare i talk e non c'è un vi faccio un esempio oggi ci sono tanti modi per superare i talk e ci sono tanti test anche non talk sia nel privato sia nel pubblico quindi in inglese in italiano lo studente che fa il linguistico sicuramente ha una maggiore dimestichezza nell'inglese e lo aiuta molto nei quesiti di comprensione del testo nella lettura di testi in modo veloce quindi non devono i ragazzi assolutamente scoraggiarsi e spesso e volentieri c'è proprio un mondo intorno a loro che tende a far vedere questo come se questo talk fosse un'ingiustizia e vi riporto alcune cose che dicono sempre prorettori in sapienza sono teste non a numero chiuso ma ad accesso programmato e questo talk è l'equivalente di un first cioè è una certificazione di competenze e come tale deve essere considerata quindi io dico sempre c'è gente che entra passa con il ricorso prendiamo anche il talk di ingegneria che è meno competitivo però poi fanno gli OFA gli OFA vuol dire i nostri debiti nella scuola e se non li superano non possono poi accedere agli esami quindi rallentano oppure passano il talk perché ingegneria appunto trovano posto si siedono all'università non capiscono analisi non capiscono chimica e perdono tempo quindi vedete che il problema non sono i talk il problema è raggiungere un livello di competenze per questo chiediamo diciamo lanciamo a tutte le scuole d'Italia la collaborazione per lavorare in un certo modo perché sicuramente creeremo studenti che poi potranno affrontare questo cammino con più soddisfazione e minor frustrazione grazie Emanuela Fatima approfitto anche per chiederti c'è una domanda che riguarda il fatto che il talk possa essere svolto a casa allora talk med talk vet sono gli unici che non possono essere svolti a casa talk I F Psi cioè tutti gli altri talk si possono si può scegliere se farli a casa o se farli in presenza però si può scegliere med vet no sono gli unici due no e si dice anche che forse però qui lo dico e qui lo nego può diventare talk anche professioni sanitarie però ancora nulla nulla scritto certo ok ci sono diverse domande Alessandro sul fatto di rispondere a caso guarda me le ero appena appuntate perché perché questo è un altro suggerimento che poi mettiamo nel manuale ma adesso parlandone secondo me possiamo dare proprio il consiglio giusto e nei corsi universitari è la prima cosa che dico nella prima lezione allora è il mio suggerimento quindi poi ognuno può tradurlo come vuole e qualche collega in cui mi sono appuntato la professoressa Azzurro il professor Uberti la professoressa Ciranne il professor Palermo domandavano su è giusto o non è giusto rispondere a caso cosa cosa potremmo dire ai nostri studenti e c'era che stava dando delle risposte condivisibili allora il mio consiglio è questo dato che ovviamente viene sottratto un punteggio parliamo di talk med risposta giusta un punto risposta sbagliata meno zero venticinque risposta non data zero punti poi diceva la professoressa Lungo ovviamente c'è l'equalizzazione per talk med ma adesso questo non ci riguarda pensiamo solo al punteggio grezzo al punteggio che riguarda la risposta allora ovviamente questo in matematica si chiama test pari è un gioco pari nel senso che se rispondo a caso o non rispondo ho lo stesso punteggio cioè che sarebbe zero ok perché se non rispondo ho zero se rispondo a casa a caso e non sono né gastone né paperino e quindi su cinque domande quattro le sbaglio perché sono quattro le risposte sbagliate e una la indovino prendo meno zero venticinque quattro volte e quindi meno uno e la volta che indovino prendo più uno e quindi il mio punteggio meglio continua a essere zero quindi il consiglio è non rispondete a caso non cambierebbe nulla ma non rispondete a caso però 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 quello che dico ai miei studenti e che noi abbiamo inserito anche nel manuale è questo se noi riusciamo a eliminare con certezza due o tre distrattori allora ovviamente conviene rispondere conviene rispondere ovvio se ti senti paperino forse è meglio non farlo però se ti affidi alla statistica a quel punto se hai eliminato con certezza dei distrattori errati se rispondi al cinquanta per cento tu hai il cinquanta per cento di prendere un punto e il cinquanta per cento di sbagliare la risposta e quindi di perderlo solo zero venticinque e vedo la pressurezza azzurlo che mi sta dando ragione però ovvio che questo è rischiosissimo eh cara collega dirlo ai ragazzi quindi io lo preciso mille volte solo se hanno la certezza di aver eliminato con certezza con con sicurezza assoluta due o tre distrattori ecco questo è il mio consiglio poi volevo se mi permettete ancora una cosa che ho trovato meravigliosa del collega Paolo Volpe che che ha parlato dell'immaginazione che ultimamente c'è sempre meno immaginazione e secondo me è il caso di di stimolare i ragazzi come diceva la professoressa Lungo anche con un approccio visivo a sviluppare questa immaginazione che spesso ti può portare alla risposta alla risposta esatta Ok grazie Alessandro allora ci sono diverse domande sul fatto che se si possano fare contemporaneamente eh i test di professioni sanitari i test di medicina eh cioè nell'online rispondo io allora i ragazzi possono fare tutto e possono iniziare dal quarto anno e diciamo il punteggio migliore viene poi conservato il mio ecco un altro consiglio che vi do da docenti e soprattutto poi chi casomai tra di voi fa anche orientamento spingete gli studenti a fare i talk anche se non hanno finito di studiare il programma anche come prova start per vedere il punto di partenza vedere diciamo quali sono le loro competenze iniziali perché loro a volte o si sovrastimano o si sottostimano quindi eh non è facile fare una valutazione di se stessi proprio per questo il diciamo il ministero ha previsto più prove dal quarto anno ora i talk ci sono come due fasce di talk da un lato abbiamo talk med e talk vette dal resto abbiamo tutto il resto dei talk talk med e talk vette si possono fare solo due volte l'anno e il punteggio si mantiene per quattro volte dopodiché si ricomincia e si rifà altre quattro volte però diciamo che loro lo possono fare due volte adesso sarà febbraio aprile e il duemilaventiquattro chiude con febbraio aprile poi lo possono fare due volte nel duemilaventicinque e dopo l'esame di stato si metteranno in graduatoria non prima col punteggio migliore delle quattro prove i talk B F ingegneria eh giurisprudenza talk su tutti gli altri talk economia si possono fare una volta al mese cioè quando loro hanno fatto la prova passata la prova ne possono prenotare un altro e mettono sempre poi nel momento dell'estate del bando universitario dell'Ateneo che hanno scelto mettono il punteggio migliore ok grazie Fatima effettivamente poi c'è una domanda a cui parzialmente hai già risposto quante volte lo studente può ripetere un talk dello stesso tipo una volta per sessione in realtà quindi se fa la sessione di una volta al mese quella parte di talk med e vette due volte l'anno esatto quindi non devono confondere è come due famiglie diverse di talk diciamo sì però per esempio il talk med se si iscrivono a una data di febbraio poi poi si iscrivono ad aprile esatto non possono fare un'altra data di febbraio no 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 uno a febbraio e uno ad aprile perché quando sono iscritti a una data questo vale per qualunque talk finché non hanno fatto quel talk non li fa prenotare ad un'altra data quindi solo quando hanno fatto febbraio possono prenotare poi aprile quando usciranno adesso le date ok nella vita no possono farlo tutte le volte che vogliono si era parlato ma l'hanno tolto prima di pensare quindi avevano detto ma è stata eliminata questa cosa quindi possono rifarlo quattro volte quattro volte quattro volte si prende sempre il punteggio migliore delle ultime quattro volte però mi raccomando si mettono in graduatoria dopo l'esame di stato quindi ripeto è come un first io vado a fare l'advance del first lo posso riprovare dopo un mese tutto quello che voglio però il mio pezzetto di carta me lo tengo nel cassetto finché esce un bando di concorso dove mi richiedono quelle competenze mi dicono c'hai il B2 c'hai il C1 e io lo uso ecco è la stessa cosa cercate di focalizzargli questo non è più il tol che non è il concorso l'IMAT per il momento è rimasto concorso una volta l'anno sempre a settembre quest'anno c'è stato un problema tecnico perché appunto Cambridge non l'ha fatto l'ha fatto il ministero e hanno ritardato la data il 17 ottobre ma normalmente a metà settembre l'IMAT per il momento l'IMAT è l'unica ancora rimasto concorso insieme a professioni sanitarie se non sbaglio architettura però su architettura e professioni sanitarie si parlava di mettere le talk e sull'IMAT ancora non ho sentito nulla però ripeto queste sono cose si parla di quindi prendetemi con le pinze per favore benissimo stiamo per esaurire il nostro tempo quindi dico solo rapidamente a tutti coloro che hanno scritto che non vedono l'area risorse per insegnanti eccetera allora in tal caso scriveteci perché potrebbe essere un problema di abilitazione proprio del vostro account quindi poi la risolviamo in assistenza insomma questa questo problema e poi vabbè c'è un grande tema con cui direi di chiudere che riguarda il fatto quanto tempo è necessario per la preparazione del test anche lì dipende dal livello di partenza per quello io dico fate i talk fateli tutti e quattro fateli tutti quelli che potete fare costano solo 30 euro non è una spesa esagerata però vi fa capire quali sono le lacune io stessa quando feci il mio first lo provai la prima volta e vidi cosa sapevo e cosa non sapevo e andai a sanare le lacune in modo diciamo puntuale secondo me è la cosa più importante i ragazzi non devono andare il ministero ha voluto dare la possibilità di più prove proprio per evitare questa ansia da prestazione e questo mettersi in gioco in un giorno tutta la tua vita di un anno quindi di dargli tante possibilità se loro queste possibilità non le usano ritorniamo indietro quindi devono provare devono imparare a provare è un po' come quando vogliono venire alle interrogazioni solo se sanno tutto e te la rimandano dieci volte perché non sanno ancora tutto no devono venire devono provare io dico sempre ai miei studenti prendete quattro con onore che conviene imparate imparate come prendere sei la prossima volta benissimo grazie Fatima sì certamente quindi prima chiaramente prima iniziano a prepararsi meglio è visto che poi possono già a febbraio della quarta fare il primo test insomma ma poi la preparazione inizia nei banchi di scuola avete visto che c'è comprensione del testo che è italiano logica che sia matematica che filosofia che è italiano e biologia chimica fisica che sono materie ma educazione civica cultura generale storia cioè questi sono talk che sono hanno messo proprio domande di conoscenza acquisite nel percorso scolastico quindi loro non devono studiare a macchia di leopardo quello mi serve quello non mi serve gli serve tutto è l'apprendimento della scuola si comincia dai banchi di scuola e i docenti della scuola secondaria sono diciamo quelli che devono proprio più possibile e dargli proprio gli strumenti per poterli affrontare i ragazzi devono capire questo dell'importanza proprio del momento della scuola invece benissimo direi di avviarci alla chiusura io mi scuso se non siamo riusciti a rispondere esattamente a tutte le domande ma nuovamente vi invito a scriverci nell'indirizzo che vi ho mostrato prima che poi trovate nella presentazione che vi manderemo grazie Fatima e Alessandro per la vostra grazie a voi e a tutti i colleghi grazie davvero grazie a tutti voi dei preziosissimi consigli per tutti grazie e buona serata a tutti buona serata arrivederci grazie a tutti